Sarà dura perché il nome è un po' così, poi c'è chi apre i giudizi, invece no, quindi insomma è tutto un po'... Che bella legge, Salvatore. Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea, in permesso premio, viene raggiunto dalla nostra inviata, Raffaella Grigi. Con Federica Sciarelli, chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20, Rai 3.